Questa sera abbiamo la fortuna di avere con noi Juan Manuel del ristorante del Sierro di Bogotà in Medellin e Miami e facciamo una cena a quattro mani, facciamo quattro piatti noi e quattro piatti lui sul tema della natura, dei quattro elementi, acqua, terra e sono venuti fuori i quattro piatti, i nostri quattro piatti suoi, i quattro piatti carini, particolari e una grande esperienza per noi perché vediamo una nuova cucina, una nuova cultura è un modo diverso di lavorare, magari gli stessi elementi e invece è per le persone che vengono a mangiare un'esperienza unica perché per mangiare da loro bisogna andare o a Bogotà o a Medellin o a Medellin e invece abbiamo la fortuna di averne a Legnano Ok, abbiamo il ristorante Il Sierro in Medellin, Bogotà in Miami, facciamo la cucina colombiana, e noi facciamo la cucina moderna, ciò che facciamo il territorio e usiamo prodotti locali e poi creiamo nuovi meni e abbiamo anche una fondazione in cui trattiamo soldati che hanno scoperto sull'ambiente e ex-guerrilla e insegniamo a cuocere e non-violence quindi stiamo facendo la cucina colombiana, in un modo, e siamo una fondazione di pace e noi come piatto del fuoco abbiamo scelto di fare una pasta asciutta, tipica calabrese, i maccaroni al ferretto e li abbiamo fatti al nero di seppia alla base mettiamo un prodotto che si chiama nove lame, che sono dei pesciolini bianchi, come dei bianchetti e con peperoncino leggermente piccanti alla base, sopra questa pasta saltata con pecorino anduja e poi terminiamo con delle lamine di pomodoro, l'idea è di ricreare un pochino il bracere uno dei piatti che siamo serviti al deserto è chiamato l'amazon e usiamo ingredienti amazon usiamo lulù, yuca, pinappoli, plantaini e cacao